Manette ci vogliono sequestrare, ci vogliono tenere prigionieri. Le aziende sanitarie del territorio bolognese danno un nulla osta dai 7 agli 11 mesi agli operatori che devono tornare nelle aziende del sud. Voi capirete che così si sfuma la possibilità per le persone che hanno una famiglia, che hanno dei figli, che hanno dei genitori talvolta disabili, di poter tornare a casa dopo anni e anni di lavoro a Bologna. Noi come FIAS prendiamo una posizione seria, una posizione forte, una protesta estrema, non violenta. Iniziamo, se non cambiano le cose, lo sciopero della fame, sciopero della fame, sciopero della fame. A Bologna ci sono 40 gradi, ma noi non siamo prigionieri di nessuno, siamo pronti alla protesta estrema sotto la direzione per dire no al sequestro degli operatori, per dire no a persone a cui viene tolta la possibilità di tornare a casa al sud, dove aver vinto una mobilità legittimamente, ti chiediamo di condividere il video, vi terremo aggiornati sull'inizio della protesta che il sottoscritto Alfredo Sepe farà. Sarà una battaglia fino all'ultimo respiro, anzi all'ultima goccia di sudore con 40 gradi, sciopero della fame se non cambiano le cose. Io sono pronto, sono deciso, sono molto concentrato perché non posso vedere gente che piange, che urla, che vede i bambini, che non può vedere più i propri figli perché l'azienda ti sequestra qua dentro. Condividi la denuncia mediatica perché adesso iniziamo a fare le cose sul serio.